Marisa Allasio, attrice italiana nata il 14 luglio 1936 a Torino, in Italia, ha vissuto una vita caratterizzata sia da momenti di trionfo nel mondo del cinema che da profonde tragedie personali. La giovinezza dell'Allasio è stata segnata dal suo ingresso nel mondo dello spettacolo giovanissima. Ha iniziato la sua carriera come modella bambina e ha debuttato come attrice nel 1953 nel film italiano Primo Amore. Il suo fascino giovanile e la sua sorprendente bellezza attirarono rapidamente l'attenzione, ed era evidente che possedeva il potenziale per una promettente carriera nell'industria cinematografica. La svolta nella carriera di Marisa Allasio arrivò quando fu scelta come protagonista femminile nel film del 1955 Pane, Amore e, accanto all'iconico attore italiano Vittorio De Sica. Il film ebbe un enorme successo e catapultò Allasio verso la celebrità. Il suo ruolo di bella e ingenua ragazza di paese ha conquistato il cuore del pubblico sia in Italia che all'estero. Per tutta la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, Marisa Allasio continuò ad avere successo in una serie di commedie e drammi popolari. Era nota per la sua versatilità come attrice, passando senza sforzo tra vari generi, dalle commedie romantiche ai drammi storici. La sua bellezza e il talento recitativo l'hanno resa una star ricercata nell'industria cinematografica italiana. Tuttavia, anche se la sua carriera prosperava, Marisa Allasio non rimase immune dalla tragedia personale. Nel 1957 visse la straziante perdita del fidanzato, Luigi Tenco, talentuoso cantautore italiano. La morte prematura di Tenco fu un colpo devastante per Allasio e lasciò un impatto duraturo sulla sua vita. Il dolore per la perdita del suo amato fidanzato getta un'ombra sulla sua felicità e sul suo successo personale. Con il progredire degli anni 60, la carriera di Allasio iniziò a perdere slancio. È apparsa in meno film e il suo potere da star è diminuito. Il panorama in evoluzione dell'industria cinematografica italiana e le sue difficoltà personali hanno messo a dura prova il suo benessere generale. Negli anni successivi Marisa Allasio dovette affrontare ulteriori sfide personali, anche legate alla salute. La sua carriera, un tempo promettente, è lentamente passata in secondo piano e lei si è ritirata dagli occhi del pubblico. Nonostante i suoi successi passati e la sua bellezza duratura, ha vissuto una vita più privata, lontana dallo sfarzo e dal glamour dell'industria dell'intrattenimento. La vita di Marisa Allasio è un toccante ricordo degli alti e bassi che spesso accompagnano una carriera nel mondo dello spettacolo. Il suo viaggio, segnato dal successo professionale e dalla tragedia personale, funge da testimonianza della resilienza dello spirito umano. Anche se oggi può essere meno conosciuta, rimane una figura duratura negli annali del cinema italiano, ricordata non solo per il suo talento sullo schermo ma anche per la forza che ha dimostrato di fronte alle avversità della vita. La tragedia della perdita del fidanzato, Luigi Tenco, è stato un capitolo profondo e straziante nella vita dell'attrice italiana Marisa Allasio. Luigi Tenco, talentuoso cantautore italiano, e Marisa erano profondamente innamorati e progettavano un futuro insieme. La loro storia d'amore inizia alla fine degli anni 50, quando le loro strade si incrociarono nel vibrante mondo dello spettacolo italiano. Entrambi giovani e di immenso talento, si innamorarono perdutamente e la loro relazione sbocciò. Sembrava un'accoppiata perfetta, due astri nascenti nei rispettivi campi, destinati ad un futuro luminoso. Nel 1957, la carriera musicale di Tenco stava guadagnando slancio e aveva appena ottenuto il riconoscimento per il suo lavoro. Il fidanzamento della coppia è stato accolto con grande entusiasmo e aspettavano con impazienza la loro vita insieme. Tuttavia, la tragedia colpì quando Luigi Tenco si tolse tragicamente la vita nel gennaio 1967. La notizia della morte di Tenco ha scosso l'Italia e l'industria dello spettacolo. È stato un colpo devastante per Marisa Allasio, che non solo piangeva la perdita del suo fidanzato, ma era anche alle prese con il dolore inimmaginabile per il suo suicidio. Le circostanze della morte di Tenco, comprese le pressioni dell'industria musicale e le lotte personali, si sono aggiunte alla complessità del dolore di Allasio. La perdita di Luigi Tenco ha segnato in modo profondo e duraturo la vita di Marisa Allasio. È stata messa sotto i riflettori come personaggio pubblico in lutto e il peso della sua tragedia personale è diventato un aspetto determinante della sua identità pubblica. Il dolore e il dolore che provò furono immensi e le ferite lasciate dalla scomparsa di Tenco non si rimarginarono mai del tutto. Con il passare degli anni Marisa Allasio ha dovuto affrontare il difficile compito di cercare di andare avanti con la sua vita portando con sé il peso della perdita. La sua carriera, un tempo promettente, nell'industria cinematografica iniziò a scemare e le ombre delle sue tragedie passate gettarono una lunga ombra sulla sua felicità personale. La tragedia della perdita di Luigi Tenco serve a ricordare duramente il prezzo emotivo che la fama e la vita pubblica possono imporre agli individui. Il viaggio di Marisa Allasio è segnato da una perdita profonda e da un dolore duraturo, ma rivela anche la profondità della resilienza umana. Ha continuato a vivere la sua vita, anche se portava le cicatrici del suo passato straziante. Con il progredire degli anni 60, la carriera di Allasio iniziò a perdere slancio. È apparsa in meno film e il suo potere da star è diminuito. Il panorama in evoluzione dell'industria cinematografica italiana e le sue difficoltà personali hanno messo a dura prova il suo benessere generale. Negli anni successivi Marisa Allasio dovette affrontare ulteriori sfide personali, anche legate alla salute. La sua carriera, un tempo promettente, è lentamente passata in secondo piano e lei si è ritirata dagli occhi del pubblico. Nonostante i suoi successi passati e la sua bellezza duratura, ha vissuto una vita più privata, lontana dallo sfarzo e dal glamour dell'industria dell'intrattenimento. La vita di Marisa Allasio è un toccante ricordo degli alti e bassi che spesso accompagnano una carriera nel mondo dello spettacolo. Il suo viaggio, segnato dal successo professionale e dalla tragedia personale, funge da testimonianza della resilienza dello spirito umano. Anche se oggi può essere meno conosciuta, rimane una figura duratura negli annali del cinema italiano, ricordata non solo per il suo talento sullo schermo ma anche per la forza che ha dimostrato di fronte alle avversità della vita. Grazie a tutti.